Cari amici reggini, due parole oggi per farvi un paio di domande. È da un po' di tempo che medito di fare un video integramente dedicato a insultarvi, a insultare noi stessi, noi reggitani, la nostra stupidità, l'incapacità, l'inciviltà, la mancanza totale di rispetto per l'ambiente, per il prossimo. Lasciamo stare. Invece di insultarvi vorrei farvi qualche domanda. Voi credo che vi definiate cristiani, credo che vi definiate proprio così cristiani. Voi siete cristiani, cattolici, protestanti, osodossi, valdesi, chiesa cristiana di Gallico. Siete cristiani. Posso farvi qualche domanda? Secondo voi, se voi rubate il vostro atteggiamento è da cristiano, e qua anche i più sprovveduti di voi diranno no. Se voi uccidete qualcuno, questo atteggiamento è cristiano? E anche qua, anche i più bestie di voi, e ce n'è tante bestie tra voi, diranno no, assolutamente, non è un atteggiamento cristiano. E se io vi dicessi, è a ogni incrocio, rubare la precedenza al rischio di vita è cristiano? Voi rispondete, sì, è cristianissimo. E se io vi dicessi, parcheggiare in seconda fila è cristiano? Voi mi dite che c'entra. E se io vi dicessi, andare a più di 80 all'ora sulla tangenziale è cristiano? Voi rispondete, sì, perché non capite. Se io vi dicessi, essere furbi, cercare di saltare il posto a una fila, mentre siete incolonnati in una fila, saltate, cercate di fare i furbi come al vostro solito, è cristiano? Voi pensate di sì. In verità, non è cristiano. Voi, carissimi amici rigidani, dite di essere cristiani, ma non lo siete. E vi dirò ancora un'altra cosa che forse non avete mai, su cui non avete mai riflettuto. Votare un candidato corrotto è cristiano, amici, non è cristiano, è demoniaco. E' un prattem, amici reggini, pensateci.